Grazie! Bello! Ti piace? Bellissimi, grazie mille! Se non c'eri tu... Ma figurati per questo po'. Io a quest'ora ho uscito adesso, sono stanca morta! Oh piccino, tu puoi sedere a 5 minuti? Sì, va! Oh, guarda che bello! Allora cosa mi dici, ma per chi sono questi fiori? Non ce l'ho detto! Stasera è l'anniversario dei miei! Ma che brava! Sì, gli ho voluto fare un pensiero e allora... Bellissima pensiero! Meno male che c'eri tu veramente, sennò non potevo! Benvenuti, privacy vai spesso, si chiudemi ci să usc ok. Meno male che c'e ne sono così tutta da dust... Nel video, mi piace di un po' maschio. Qu'è un po' non è il gioco e due a fare un po' non è un po' che diello delיצamento. Qu'è un po' non è un po' non è un po' non è un po' non è un po' dentro, Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' proprio quello che pensi di... E' proprio quello che pensi di... E' proprio per sempre. 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 A me sembra sangue. Ma no amore, non è sangue. Sicuro? Sicuro, sicuro. Comunque poi glielo chiediamo al barista. Buongiorno, cosa vi porto? Allora, due colpicini e un succo di frutta per la bimba. Va bene, arrivo subito. Grazie. Mamma, ho sete. Ora ti vado a bere amore, aspettiamo un attimo e arriva. eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. E' una brutta storia. E' una brutta storia. Tanti anni fa una nostra agevone collega fu uccisa proprio qui, in questo punto, dal suo ragazzo per gelosia. Mamma, ma si sono perdita così tanti anni, come mai c'è ancora la macchia di sangue? Eh, è un vero mistero. Benché lavata via, la macchia ogni volta torna allo stesso punto e alla stessa ora in cui fu ucciso. Buon proseguimento. Grazie. 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 Guardi, le chiedo scusa per nostra figlia. Ha preso tutto da Eleana, sua mamma. Eleana? Anche la mia ragazza si chiama Eleana. Sì. Che strano, eppure non è un nome molto diffuso. Comunque scusi, non mi sono ancora presentato. Piacere, Paolo. Paolo? Ma, Villa Pallavicini. Amore per sempre. 1-3-17, la nostra frase. Ma è lo stesso tatuaggio, com'è possibile? Sì. Fa male? Hai picchiato? Hai una mano, con una mano? Tutto ok, tutto ok. Mi fa piacere, mi fa piacere. Vai, mi porta un po' avanti. Lì non c'era una famiglia con una bambina? Io non ho visto nessuna famiglia, nessuna famiglia, non c'era nessuna. Cos'è successo? Cos'è successo? Non conosce, è caduto. Lì non c'era una famiglia con una bambina. Paolo, da stamattina qua non c'è stato nessuno. Ma la bambina ha urtato il tuo collega? Paolo hai dato una testata, sei sicuro? Il cappuccino mi ha pensato. Il cappuccino? Dove lo vedi il cappuccino? Paolo, non c'è niente qua, dove è il cappuccino? Ma hai dato una testata, sei sicuro di star bene? Chiamo l'ambulanza, sei tranquillo? Devo andare che mi stanno chiamando. Mi raccomando. Paolo, Paolo, ma che ci fai qui a questo? Che ci fai? Stavo per fare lo sbaglio più grande della mia vita. Ma... Au, ai! Che cos'hai qua? Allora? E' il nostro futuro. Ok, andiamo a farlo in giro. Cinque minuti. Un bel 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.